Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV Occhio ai giornali questa è l'edizione delle 13 e 30 e allora subito uno sguardo al calendario del giorno oggi la chiesa ricorda il beato Carlo Gnocchi Carlo Gnocchi nacque nelle vicinanze di Lodi nel 1902 entrato in seminario venne ordinato prete nel 1925 è stato muore nel 1956 e beatificato nel 2009 il sole è sorto alle 7.26 tramonterà le 18.20 il tempo per la giornata di domani mercoledì 26 ottobre domani avremo un cielo nuvoloso molto nuvoloso anche dalle ore centrali della giornata vedete come ci sono nuvole grigie con tanta pioggia e temporali infatti avremo dalla tarda mattinata rovescio temporali sparsi e localmente saranno anche di forte intensità più insistenti nel settore costiero ed in spostamento da nord verso sud dal tardo pomeriggio le precipitazioni riguarderanno maggiormente i settori dell'entroterra quindi la montagna fenomeno in progressiva attenzione dalla serata a cominciare dai settori settentrionali le temperature sono in diminuzione nei valori massimi per giovedì 27 il tempo migliora quindi inizialmente avremo ancora un po' di residui rovesci o temporali soprattutto nelle zone meridionali in mattinata però poi in progressiva diminuzione tutta la tutta la perturbazione scivolerà via e quindi tornerà il sole le temperature sono in diminuzione nei valori minimi in lieve aumento invece nei valori massimi per la giornata di venerdì invece il tempo sarà bello su tutta la regione Marche con cielo sereno temperature in diminuzione soltanto nei valori minimi poi c'è questo consolidamento di questo anticiclone che garanterà il tempo stabile per tutto il fine settimana e l'inizio della prossima settimana quindi tempo bello adesso i giornali i giornali subito il resto del Carlino con la fotonotizia che viene da Pesaro finisce l'epoca dell'ex bar Capobianchi in Piazza del Popolo addio Nero Caffè ci sarà solo moda questo locale che per tanti anni è stato un bar verrà chiuso da tempo sarà affittato ad una multinazionale dell'abbigliamento e dunque è un pezzo di Pesaro che si trasforma sull'ospedale unico il documento pro muraglia invece Ricci tira fuori una lettera della provincia che aveva retrocesso Fosso Signore mentre Massimo Seri spara su tutti e su questo argomento ci sono due pagine questa mattina del resto del Carlino io prendo soltanto la pagina 2 dove c'è il sindaco di Fano che dice io da solo contro tutti per chiaruccia e non ho mai accettato muraglia il sindaco di Fano sulle barricate è sempre la scelta migliore continua senza battere ciglio Massimo Seri su questa posizione che è ormai chiara e nota da tantissimo tempo Fosso Signore è l'indicazione della Regione io posso solo prenderne atto varianti ne parleremo in Consiglio Comunale L'accusa Gambini non è vero che negli incontri ho dato il via libera alle scelte pesaresi non è così gli ipocriti sono loro e c'è tutta l'intervista di Anna Marchetti appunto a Massimo Seri sulla posizione sulla posizione che è anche critica ovviamente nei confronti anche dei colleghi sindaci che probabilmente si aspettava lo aiutassero in qualche modo nella posizione di chiaruccia in realtà questo aiuto non c'è stato come ormai è ben noto e quindi è rimasto solo poi la notizia di questa mattina che vi daremo nel telegiornale di questa sera è che Gambini il presidente dell'area vasta quella che riunisce che poi di fatto non è riuscita a decidere nulla sull'ospedale unico nella riunione di qualche giorno fa Gambini ha detto sono disponibili a riconvocare una nuova riunione, una nuova assemblea di area vasta con tutti i sindaci per ridiscutere il programma, per ridiscutere il progetto dell'ospedale unico dalla pagina di Fano del resto del Carlino studenti in gita bloccati dalla polizia è la prova che sono in buone mani così ne è convinta la preside del polo scolastico Tre Anna Gennari che vedete nel riquadro in alto a sinistra rassicura la preside i genitori gli agenti sono stati chiamati dai professori un insegnante si è accorto di fumo che veniva dai sedili e sono state sequestrate le sigarette e quindi un controllo che in qualche modo è sinonimo di attenzione andiamo adesso sull'altra pagina del resto del Carlino ed è, siamo sempre su Fano ed è alta tecnologia, la ristorazione 2.0 si parla di enogastronomia e di macchine c'è pure Now, il robot esperto di cucina due giorni di incontri dedicati all'enogastronomia evoluta l'evento si chiama Una città da gustare dedicato a Sara Bracci che è la ragazza enoga che è in coma dopo un incidente lo è da ormai tanti mesi ed è a lei, dedicata a lei questa manifestazione a rischio l'operazione Gimarra mancherebbe l'accordo tra il fondo Cives e Banca Marche sarebbero ancora lontani 20 milioni annunciati da Seri per la piscina compresa lo aveva annunciato qualche giorno fa al Lions Club il sindaco appunto di Fano non è così in ballo c'è il recupero dell'area del Carmine housing sociale, una RSA con 110 posti letto e piscina cade dall'albero un anziano ferito l'incidente è avvenuto a Sant'Orso a terra un 83enne, Achille Principi in suo soccorso è corso tutto il vicinato assieme a due ambulanze del 118 e all'eliambulanza Icaro che l'ha trasportato al reparto di neurochirurgia dell'ospedale regionale di Torrette d'Ancona un incidente che è avvenuto alle 14.30 quando questo anziano vedovo è volato da una scala che aveva posizionato in giardino addossata ad un olivo per raccogliere appunto per cercare di raccogliere i frutti per cercare di raccogliere un po' di oliva poi ci sono gli immobili invece che il comune ha messo all'asta in un'area vicina all'ex zuccherificio una struttura commerciale da 2500 metri quadrati per acquistare quest'area questo terreno edificabile il comune chiede 2 milioni di euro ma quale orso e qui siamo tutti contenti perché alla fine il mistero è stato svelato quale orso era una bufala la foto di un grosso cane scatena l'allarme su Facebook il sindaco Baldelli e la forestare rassicurano i cittadini di Pergola vedete nei giorni scorsi era apparsa questa fotografia sui social network di questo cane che in effetti sembra un orso poi in realtà è venuto fuori che quest'orso non è altro che un cane certamente di una bella stazza di grossa taglia fotografato con gli agenti della forestale e la signora Maria Donnini quindi insomma non si tratta di un orso però quasi assomiglia parecchio i rari esemplari vivono in Abruzzo e nelle basse marche da noi dicono gli esperti non ci saranno mai turismo, la consulta muove i primi passi siamo a Marotta molti operatori e associazioni all'incontro introduttivo indetto dal comune di Mondolfo e adesso andiamo sul Corriere Adriatico la pagina di Fano traffico a tratto nell'area urbana così addio alla città dei bambini il comitato per la viabilità sostenibile contesta l'ispirazione delle nuove opere viarie il piano per la rivoluzione per rivoluzionare la circolazione di Sant'Orso è sulla carta dice Giorgio Roberti il presidente del comitato viabilità tra l'altro si teme l'invasione delle auto su Viale Italia le vie del centro sarebbero tutte da liberare mentre l'interquartieri verrà inaugurata soltanto a dicembre a dicembre è slittata invece l'inaugurazione infatti l'inaugurazione di questa importante opera la giunta si mette il bavaglio per il referendum dopo l'esposto del 2015 del Movimento 5 Stelle e dunque siccome sono convocati i comizi elettorali non si può fare campagna elettorale quant'altro tutti quelli che hanno una posizione politica in primo piano non possono parlare tra virgolette non possono promuoversi e allora tutto rinviato a dopo il 4 di dicembre data appunto del referendum cade dall'ulivo in giardino il grido muoio aiutatemi ecco la cronaca sulla pagina di Fano del Corriere Anziano si infortuna arrivano due ambulanze e alla fine anche l'elicottero l'emergenza in via Galvani la strada e l'accesso al campetto bloccati per il soccorso vedete le ambulanze ieri pomeriggio che è atterrata nel campetto di via Soncino nel quartiere poi sotto a Cappatoio brevettato grazie al genio fanese realizzato in fibre di bambù dall'imprenditrice Tomassoni e dal designer Cecchini e poi ancora una città da gustare cultura ed economia focus di due giorni su potenzialità e rischi dell'enogastronomia convegni e premiazioni con la partecipazione dell'istituto alberghiero Santa Marta e del Fab Lab il tutto in programma il 28 e il 29 di ottobre dalla Valle del Cesano l'orso non esiste è il cane d'ora questo è il nome del cane la guardia forestale si chiude il caso nato sui social network trovato il meticcio protagonista della foto la proprietaria conferma che proprio nel giorno dello scatto l'animale era uscito dalla recinzione il sindaco Baldelli ringrazia il corpo forestale con le sue verifiche ci ha tranquillizzati dice adesso il primo cittadino che probabilmente avrà dovuto rispondere a più di un concittadino preoccupato la curiosità e la paura viaggiano sul web non è stato l'autore a postare le foto che hanno infiammato la rete e in effetti anche in questa fotografia davvero un cane che sembra a tutti gli effetti un orso poi la pagina di Senigallia Senigallia e Morro d'Alba travolti dal no le urne bocciano il progetto di fusione il sindaco Senigallia Mangialardi dice rispetto il voto ma è un'occasione persa Cinti servono alternative per garantire l'attività non lo voglio invece ai domiciliari la madre lo rimanda in carcere disoccupato a 49 anni vendeva i biglietti fantasma del concerto di Vasco Rossi finisce così a Monteacuto protagonista un 39enne che ieri è stato accompagnato dai carabinieri in quello che sarà il suo nuovo domicilio per i prossimi 4 mesi e questo anche grazie possiamo dire così alla madre che ha detto non lo voglio a casa poi per quanto riguarda la cronaca da Pesaro sul Corriere Alessandro si è ferito alle mani per cercare di salvare Filippo Filippo è il giovane che vedete in questa fotografia in questo riquadro morto l'altra notte l'altra mattina alle 5 3 quarti mentre rientrava a casa insieme a due amici un colpo di sonno è finito contro un albero ed è morto è rimasto incastrato i due amici una ragazza e un altro amico hanno cercato in tutti i modi poi di liberarlo ci sono per fortuna riusciti prima che l'auto prendesse fuoco sgomento dopo la tragedia di Arzilla l'angoscia delle madri gli amici invece in ospedale non ha ancora decisa la data dei funerali ancora questa mattina abbiamo sentito abbiamo cercato di sapere la data in realtà ancora non era stata decisa quindi vedremo se nel pomeriggio si saprà qualcosa di più dei funerali di questo ragazzo Chiara ora invece è recuperato in ospedale però sta meglio certo sono situazioni sono cose che rimarranno per sempre nella vita dei sopravvissuti con il nastro rosa invece in piazza per le donne sempre da Pesaro successo per la campagna organizzata da Lilt Wisp e Croce Rossa sui controlli ancora dal Corriere Adriatico Caritas invasa dai nuovi poveri sono gli under 30 coloro che hanno meno di 30 anni e che sono senza lavoro al centro di ascolto nell'ultimo anno si sono presentati 600 ospiti in più il coordinatore Andrea Mancini dice abbiamo 900 richieste di buoni pasto e 300 per i pacchi da portare a casa legno in sciopero Pesaro scelta come capofila venerdì il corteo riferimento del centro Italia arriverà fino alla sede di Confindustria dunque è stata scelta Pesaro come riferimento per il centro Italia per lo sciopero dei lavoratori del legno che ci sarà venerdì in piazza Lazzarini ancora le ultimissime pagine dei giornali sempre dal Corriere a Fano troppi campanilismi questo accordo è impossibile parliamo sempre di sanità il primo cittadino analizza l'errore che ha portato all'algoritmo poi la rivelazione al San Salvatore sorgerà una casa della salute queste sono le parole di Ricci poi nuovo studio Ricci rilancia caro Ceriscioli muraglia in testa l'analisi della provincia senza casello di Fano Nord a sorpresa il sindaco tira fuori l'aggiornamento in consiglio comunale il primo cittadino Ricci invita a usare l'app del buonsenso niente patto con le minoranze ed è tutto per questa edizione delle 13.30 della nostra rassegna stampa rassegna stampa che torna domani mattina puntuale alle 7.30 in diretta ci vediamo tra qualche ora tra poche ore alle 20.30 per il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a